Sveglia! 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 Io odio il lunedì. Daniel? Sì, Satana. Dove sei? In giro. A fare cosa? Un giro. Con una ragazza? Sì. Chi è? Non la conosci, si chiama Giorgio. Passamela! No. Ma figurati se te la passi! Attenso, passamela! È mia madre. Pronto? Piacere, sono la madre! Purtroppo. Piacere, signora. Io mi chiamo... Dove siete? In macchina. Cosa state facendo? Stiamo parlando. Ah, quindi gliela vuoi dare! Come scusi? Scommetto che sei una di quelle che la darà prima sera! Veramente? Io sono ancora vergine. Questo è tutto da vedere! Mamma, che cosa stai facendo? Adesso faremo un accurato controllo. No, dai, vi prego! No, no! 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 Eh già che ci siamo! Esamina il sangue! No, no, no! Cos'è sto casino? Tutti i vestiti in giro metti a posto! Ma lo faccio dopo, adesso sto studiando. Domani è un esame. Lo sai che il figlio della Luisa oltre a studiare aiuta in casa, stira, lava, cucina, guida i trattori, porta le mucche al pascalo, fa volontariati in Africa tre volte alla settimana e fidanzato nel pure vegano? E allora? E che la figlia della Mara prende sempre 30 elode e vive da sola? E allora? E che il cucino del nipote di Marcello ha riportato indietro i marò? E allora? E allora il coglione non solo mi ha tenuto fallito ma malapena riccia a portare a casa un misero diciotto! Ma cosa stai dicendo? Capra! 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 Adesso basta! Che cosa hai detto? Sono stufo di essere paragonato agli altri, tutto quello che faccio non va mai bene! Dacci io non ti faccio uscire per una settimana! Ho 25 anni, 25, non puoi trattarmi come un bambino! Questa, questa è follia, questa è blasfemia! Oh no! Questa è satana! Mamma sono due ore che ti cerco, perché non rispondi al telefono? Non so mica come te che ce l'hai attaccato al buco del culo eh! Sì ma potevi rispondere! Non ho sentito! Sì vabbè, quando chiami tu devo rispondere in 7 secondi, poi ti chiamo io 35 volte e non ti degni neanche di richiamare! Ero preoccupato! Che palle, ce l'avevo in borsa! E cosa ti costa metterlo in tasca? Io il telefono lo metto in borsa, va bene? E se c'è un'urgenza? E se qualcuno si sente male? E se qualcuno muore? Cazzo suoi! Io se il telefono in borsa non lo sento e di conseguenza non rispondo! Sì ho capito, però non mi sembra educato! Non toccarla, com'è? Andiamo a fare zumba oggi? Ma dai! Diamo pure quando vuoi! Oggi è proprio una bella giornata, sono andata dalla parrucchiera e non c'è niente che potrebbe farmi incazziare! Cosa succede? L'ha rifatta ancora! Chi? Il vicino! Ha parcheggiato davanti al nostro cancello! Ma 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 dobbiamo stare calmi, dobbiamo essere pragmatici! Stai zitto! Buoni sì, ma coglioni no! E mo gli faccio vedere io chi sono! No ma aspetta, ma dove vai? Ma, ma, ma aspetta! Eh ma Gimbu! Guarda che non puoi parcheggiare qui, occupi troppo spazio! Mi sta dando dei ciccioni? Tu non puoi parcheggiare! La strada è di dominio pubblico! Tu non puoi parcheggiare! Io parcheggio dove voglio! Tu non puoi parcheggiare! Lei non puoi parcheggiare! Io la denuncio! Denunciami! Saccottino di merda! Turn down! Ta-dan! Sorpresa! Wow che cos'è? Visto che ti vesti sempre come un pezzente ho deciso di farti un regalo! Davvero? Grazie! Aprilo! Vedrai! Ti piacerà un sacco! Il commesso ha detto che è l'ultimo modello! Oh! Ma è un pacco gigante! Finalmente un vestito elegante! Molto meglio! Fidati! Rappresenta appiena la tua personalità! Leggings rosa! Leggings rosa? Da uomo! Ma... Hai visto che sono perfetti per te? Ma... E poi sono il modello che ti fa venire il culo di marmo! Ma... Aspetti! Provali! Ma che schifo! Ma secondo te mi metto questa roba? Oh! Lo sai quanto li hai pagati eh? No! Quanto li hai pagati? Erano in saldo! Io esco! A quest'ora! Sono le nove del sabato sera! Si esco a quest'ora! Daniel mi raccomando stai attento! Ma non sto andando in guerra vado in centro con i miei amici! Daniel mi raccomando niente multe! Benissimo io vado ciao! Fermo! Che c'è? E se perdi il portafoglio? Ma ce l'ho in mano il portafoglio non posso perdere! E se ti rubano il polide? Ma figurati se mi rubano la panda! E se uno sconosciuto tenta di stuprarti appena volti l'angolo? Ho la cintura di Cassità! Bye bye! Dove ho messo il portafoglio? Fermo! La mia macchina! Attento ai veloz! Vieni qua che ti trombo! No! No! Ma! Aiuto! Te l'avevo detto! Coglione! Ragazzi sbagliamoci tanto domani e domeniche si dorme! Sbocciamo tutta la nottage! Tutta la nottage! Uuuuh! Si vacci viene molto lunga. Sli dentro dei campi ingiug regulations… No no no. Il Monte Luca! Non è cyc famiglia? No. loose sottoравva. No. Tu hai aperto… No, non ho mazioia! No, non ho paura. No mamma bello… No, man, no mia macchina va e tutto l'uomo. E di settimana la stessa storia Non posso farne a meno Abbi pietà Non posso Anche il cane ha chiesto asilo politico Coraggio Daniel Mi fanno male gli addominali Devi fartele una ragione Non ti sembra che Gigi D'Alessio alle 8 di domenica mattina sia già abbastanza Fa parte del mio lavoro Non sei costretta a farlo È il mio dovere Credevo più volessi bene Non posso lasciarlo incompleto Che cosa ti cambia? Devo farlo Tra due giorni sarà tutto come prima Lo farò di nuovo Ormai l'ho deciso Coraggio Daniel Alza i piedi Nooooo Eh coglioni siamo in Pantella Se questo era 10 cose che amo di mia madre Che odio di mia madre Vabbè se volete un nuovo video Mettete un pollice in su E a 100.000 like Uscirà un nuovo video Noi vi ringraziamo tantissimo Per averci seguito anche questa settimana E ci vediamo prestissimo Con tanti nuovi video Un saluto panteriano a tutti Un saluto panteriano a tutti Ma stai zitto coglione Toglimi le mani Dami un bacio un po' di affetto Nooo Nooo No ti prego io ti prego Io voglio vedere la guerra Io voglio vedere Io voglio Nooo Nooo Ah